Lecce, città del libro 2017. Leggere per nutrire e condividere esperienze, promosso dal Comune di Lecce in collaborazione con Regione Puglia e Cepel. Ci rivolgiamo a librerie, associazioni, fondazioni, cooperative culturali, organizzazioni no profit e imprese private con sede a Lecce. I progetti ammessi al bando dovranno essere finalizzati alla scrittura e alla promozione della lettura e realizzati nella nostra città entro l'anno 2017. Vogliamo realizzare itinerari letterari, creare, utilizzare e diffondere attraverso le tue idee, app e software che promuovano il libro e la lettura nei luoghi pubblici e nelle aree svantaggiate di Lecce. Leggere per crescere! Aiutaci a far diventare la lettura strumento di inclusione sociale, rivolto ad ogni età e fascia sociale. Scarica la domanda di partecipazione su www.leccicittadelibro.it e inviala in PDF via PEC o consegna manualmente il plico. Puoi partecipare entro e non oltre le ore 12 del 21 agosto 2017. Seguici sui social Lecce Città del Libro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!